Vincere qua è un segno indelebile per un campionato che probabilmente stiamo facendo anche andando al di sopra delle nostre possibilità, però vogliamo avere entusiasmo, vogliamo avere il pensiero di lavorare serenamente a settimana per preparare tutte le partite e provare, come diciamo sempre, a fare più punti possibili. Come riaprire la corsa per la promozione diretta in 5 minuti, autori Gregorio Moracchioli e Damir Setter, trama di Michele Mignani, conclusioni a cura del Como. Firme su una pasquetta speciale che ha restituito al Bari la fiducia nella possibilità di raggiungere la Serie A, dalla porta principale è ridotto una porzione piccola ma considerevole delle speranze del Genoa di avere il salto di categoria già in mano, almeno fino all'ottantottesimo della partita del Sinigaglia di Como quando la squadra di Gilardino sta conducendo per 2-1 ed è a più 8 sul Bari fermo sullo 0-0 al Druso di Bolzano contro il Sul Tirol. Su un calcio d'angolo il pallone arriva a Mancuso che pareggia sugli spalti di Bolzano. La notizia arriva e viene accolta dai 623 tifosi biancorossi assiepati nel settore ospiti. Primo segnale, il secondo arriva dopo 4 minuti, l'alto altesino Pompetti si fa espellere per un duro fallo su Foloruncio. A quel punto il Bari preme sull'acceleratore, il pallone arriva a Puccino che crossa in aria e i due protagonisti che non ti aspetti inseriti da Mignani a metà ripresa perché dire Antenucci, 23 reti in due, miglior coppia gol del campionato per rendimento, si palesano davanti a Poluzzi. Seter trasforma un pallone vagante in un assist di tacco e Moracchioli dal volo trasforma. Destro liftato sull'angolo lontano, bacino al palo e boato nel settore ospiti. Prima Joy & B per il 2000 ex Renate. Altro segnale da cogliere, Moracchioli non segnava in campionato dal 10 gennaio 2021. In C contro il Gubbio sono gli Attimi che condannano il Sud Tirol al primo KO del 2023 che portano il Bari a quattro punti dal secondo posto e da quel Genoa che i Biancorossi sfideranno nell'ultimo turno di campionato. Ma non basta, quattro sono anche le lunghezze di vantaggio proprio sugli altoatesini, garanzia da custodire per difendere un terzo posto che in chiave playoff varrebbe oro. Ad agire da pompiere è il solito Mignani che guarda solo al prossimo step, sabato 15 aprile alle 14, quando al San Nicola arriverà il Como. Il percorso che stiamo facendo è che secondo me ci deve dare consapevolezza e forza di andarci a giocare serenamente le prossime battaglie.